Salve a tutti, buongiorno e benvenuti in questo mio nuovo video. Siccome ho ricevuto più di qualche domanda, e soprattutto negli anni scorsi, come fai a utilizzare Windows XP nel 2019, nel 2020, eccetera, ho aspettato appena adesso, nel 2022, ventesimo anniversario dell'uscita sul mercato di Windows XP, perlomeno in Italia, di dare risposta, una risposta pratica in qualche modo, appunto a queste domande. Allora, innanzitutto, personalmente, Windows XP non è, come immaginerete, non è il mio sistema operativo principale, assolutamente, però nel tempo libero mi sale a volte quella nostalgia che mi fa venire voglia di collegarmi alla mia vecchia macchina su cui ho installato Windows XP e utilizzarlo per quanto possibile in maniera, tra virgolette, no. Ecco, come avrete già visto più di una volta, questa è la mia vecchia macchina, HT Pavilion A1000, ho già documentato in qualche altro video, e questo è il vecchio schermo CRT. Per accedere a Windows XP, io praticamente l'ho installato nel secondo disco rigido, per cui entriamo nel boot menu, Samsung, ecco qua, questo è il disco rigido con Windows XP. Un disco rigido nuovo, che ho cambiato relativamente poco tempo fa, perché quello precedente aveva dei problemi, cioè si stava rompendo del tutto, per cui in tempo io ho messo dentro questo vecchio disco, no, questo nuovo disco rigido, in realtà ha preso uno computer Dell che non era, diciamo, utilizzato. Allora, ecco, Windows XP, si carica, apriamo il volume, come, se no, con l'immancabile suono di avvio di Windows. Ecco, e diciamo, si presenta così. Aspettiamo qualche secondo solamente che si, che si, appunto, si avvii, e si avviano tutte le applicazioni necessarie. Nel frattempo, tre punti principali per utilizzare Windows XP nel 2022. Allora, prima faccio una piccola premessa, ovvero, Windows XP chiaramente sta seguendo lo stesso corso dei precedenti, tipo Windows 95, 98, 2000, che ho utilizzato molto, cioè, via via, è comunque sempre più difficile utilizzarlo, per cui, non è che bisogna illudersi, ovviamente. Però, come dire, con dei piccoli accorgimenti si può renderlo ancora operativo abbastanza bene. Ecco, questi sono tre principali punti che mi permetto di stillare. Allora, il primo, fornirli quegli aggiornamenti più recenti, quindi parliamo, diciamo, quando dico più recente, fino al 2014 circa, con degli ulteriori accorgimenti anche fino al 2016, però non tutte le macchine sono in grado di supportarli, ma anche qui servirebbe aprire un video a parte. Dopodiché, fornirli, quindi, tenerlo aggiornato, tenerlo aggiornato, fin nelle, nelle, nelle più recenti possibilità, fornirli dei browser che ci permettono di accedere ad internet in maniera aggiornata o più o meno recentemente aggiornata e terzo, chiaramente, tenersi lontano da, ovviamente, lo dico così, cioè, evitare di accedere a tutti quei siti dove vengono utilizzati i dati sensibili, eccetera, perché comunque, ripeto, si tratta di un sistema operativo vulnerabile, ovviamente, tenersi lontano dalle minacce, eccetera. Adesso, ecco, vediamo, sicuramente si è caricato. Eccoci qua, allora, chiaramente, il punto di tutto è la navigazione in internet, cioè, nel senso, finché lo utilizziamo per il pacchetto office o per guardare dei video su chiavetta, eccetera, cioè, non c'è nessun problema ascoltare musica, non c'è nessun problema. Chiaramente, a noi interessa la navigazione in internet. Allora, io ho due browser, uno è l'ultima versione disponibile per Windows XP di Mozilla e l'altra è questa che si chiama MyPAL. MyPAL è un browser che è un, come dire, non è perfetto, ha vari bug e vari problemi di diverso tipo, devo dire la verità. È un sistema, è un browser molto instabile, però, tuttora, ci garantisce di navigare in tutti quei siti che con gli altri browser ormai non è più possibile su Windows XP. Però, io adesso vi mostro Mozilla perché, insomma, per i siti che voglio mostrarvi ecco questa, questa, questa sera è più che sufficiente. C'è da dire che questo è un computer per l'epoca assolutamente top di gamma, abbiamo un processore quad core, abbiamo 6 GB di RAM però ovviamente Windows XP essendo 32 bit ne rileva ne rileva 350 comunque abbastanza. Un'ottima scheda grafica, una GTX 950T mi sembro 1050 non ricordo, devo essere onesto. Però vediamo se, perché mi è venuto la volontà di mostrarvela l'impostazione GTX 750T ecco, questa è la scheda grafica di questo PC. Vedete, fa un po' collo da bottiglia, può essere, ma semplicemente ho preso dei componenti qua e là che avevo, insomma, la possibilità di montare su questo computer anche per una questione di retro gaming. Allora, iniziamo da YouTube, no? Perché è quello, insomma, più interessante soprattutto se si tratta di video in HD. Allora, abbiamo il nostro YouTube. Attendiamo che si carichi. Eccoci qua, intanto lui ha caricato. Bene. Più o meno bene, però, se gli date tempo, caricherà, vi dico, abbastanza bene tutto. sicuramente non è reattivissimo però. E adesso cerchiamo qualche video per mostrarvi. Allora, ho caricato questo video, un video standard. Vedete, comunque, appunto, non dà nessun problema. Questo è un video chiaramente di natura. Allora, 1080, vediamo, io di solito lo utilizzo in 720p, non 1080. In 720p va benissimo. 1080 non lo so, ma presumo che non dia troppi problemi. Ecco, comunque, vedete, insomma, tutto abbastanza liscio, non ci sono particolari interferenze, blocchi o quant'altro. Insomma, è un video chiaramente insomma, molto standard, non è che... Però, insomma, per mostrarvi che i video chiaramente ecco, si vedono. Poi, per esempio, vogliamo andare, non so, su Ansa. Allora, lo mettiamo rifiuta. Vedete, lui comunque carica abbastanza bene la pagina. A volte deve fare un refresh, però comunque la carica tutta abbastanza bene. anzi, no, abbastanza bene. Più che bene. Adesso io mettiamo per esempio Instagram, non accedo sull'account, però per farvi vedere che comunque appunto i social sono tranquillamente accessibili. Ecco, vi garantisco che anche i sistemi appunto di messaggistica su Facebook e su Instagram funzionano bene, li riesci a utilizzare tranquillamente, eccetera. Ecco, questo grosso modo per darvi una panoramica di Windows XP nel 2022. Vogliamo andare, non so, anche su meteo, meteo, roma, dai, accetta, ogni volta mi chiede di accettare o rifiutare questa cosa qui perché li faccio cancellare la cronologia ogni volta in modo tale che sia più leggero perché ho avuto dei problemi se si accumula troppa cronologia. Vedete, anche la cronologia la carica discretamente. Abbastanza reattivo, vedete, nelle varie, nelle varie operazioni, mettiamo radar, eccoci qua, vedete, alla fine grossomodo riesci a fare queste varie operazioni. Adesso possiamo anche chiudere. Bene, quindi che c'è da dire? Come avete visto è ancora utilizzabile, chiaramente con tutti i suoi limiti perché ci sono diversi limiti che ovviamente si riscontrano navigando su un sistema operativo così vecchio con più di vent'anni però è ancora utilizzabile è ancora utilizzabile come avete potuto constatare. Voleva essere appunto un video così molto breve e semplice spero che vi sia piaciuto un saluto a tutti e al prossimo video. Qualsiasi chiarimento qualsiasi cosa che magari mi sono dimenticato che sia di vostro interesse sapere potete scriverlo nei commenti e vedrò di rispondervi. Ciao a tutti e buon proseguimento.